Abbiamo deciso di istituire il Fondo Accoglienza Famiglie del Mondo perché pensiamo davvero che sia un incontro mondiale e che veramente tutte le famiglie abbiano diritto di cittadinanza, soprattutto in una prospettiva di Chiesa Cattolica. E per noi sarebbe grave se una famiglia che vuole venire, vuole condividere la sua fede, invece non lo può fare solo per ragioni economiche. Abbiamo bisogno di ascoltare i racconti della fede e dei patrimoni di umanità che sono nella Chiesa del Mondo. Abbiamo bisogno anche di trasmettere ciò che verrà fuori da questo incontro affinché queste famiglie possano tornare a casa loro e riportare questa ricchezza. Quindi è davvero un segno importante per noi. In queste due settimane abbiamo raccolto circa 20.000 euro. È una piccola somma ma riteniamo che possa crescere nel tempo e comunque è una somma già significativa per dare un aiuto rilevante a varie famiglie. Per adesso abbiamo avuto richiesti da Haiti, dallo Zimbabwe e anche dalla Bielorussia e questo dice già la varietà delle situazioni. Quindi questi per adesso ci sembrano i primi soggetti ma naturalmente pensiamo che arriveranno anche da altre parti del mondo. Per cui questo è solamente un inizio. Quando bisogna scegliere le famiglie da aiutare bisogna sempre avere alcuni criteri di riferimento. E non è mai facile poi decidere concretamente a chi dare una cosa oppure non darla. Sicuramente tra i vari criteri terremo in conto il fatto che ci sia una segnalazione ufficiale da parte della diocesi o del movimento ecclesiale di appartenenza, il grado di indigenza e poi anche la possibilità che appunto questa famiglia possa ritornare nel proprio paese, nella propria comunità e far rifluire dentro il proprio contesto ecclesiale questa ricchezza che ha ricevuto. Grazie a tutti.